Ovviamente penso che ci siano state dette molte cose e indubbiamente aver avuto qua non solo l'intervento di Giso ma anche le suggestioni, la ricchezza delle esperienze di Siriza e di Podemos e il punto di vista tedesco sia una cosa molto complessa da cercare di riassumere in una visione più articolata. Quello che mi premeva di dire a seguito di tutti questi interventi è che per ripartire da un'immaginazione nuova rispetto alla Costituzione europea e rispetto alle possibilità che abbiamo per poterla modificare dobbiamo agire su più livelli. Uno di questi livelli è quello di cui ci parlava Martin adesso e devo dire che mi trovo molto entusiasta la proposta di poter tornare di nuovo nel cuore della bestia, nel suo ventre, a dire a Merkel non solo in quanto governo tedesco ma in quanto trazione di tutti i governi e di questo estremismo di centro come è stato chiamato che sta cercando di guidare l'Europa che il tempo dell'austerità è finito e che è giunto il momento di ripensare a cosa significa democrazia di tradizione illuminista, di tradizione che viene da tutte le lotte europee dei secoli passati, riprendercelo in mano e riniziare a riapplicarlo mandando come diceva Martin al mittente tutte le ricette che hanno applicato finora ma soprattutto ripensando anche a un nuovo rapporto che ci può essere tra istituzione e società, tra conflitto e creazione poi di dispositivi decisionali e di dispositivi di volontà popolare. Io penso che questo sia importantissimo perché se non capiamo la centralità che ha la Germania, che ha l'Europa del centro, nella legittimazione che hanno tutti questi vari governi e queste varie direttive europee commettiamo un errore, commettiamo un errore perché proprio Merkel, proprio Schäuble, proprio tutti coloro che in questo momento stanno dirigendo le principali istituzioni europee pensano di star seguendo una volontà collettiva, giocano un po' su questa ambiguità come si diceva prima degli stati e nazioni per cui da una parte sono stati eletti e dall'altra però superano sempre questo tipo di volontà popolare. Io però ringrazio anche quello che è stato detto dai compagni di Siriza e da quelli di Podemos e da Rita di Aura Madrid perché non solo ci può far vedere come è possibile avere un nuovo tipo di relazione con le istituzioni che siamo sempre stati abituati a criticare e che indubbiamente hanno con sé delle contraddizioni, ma ci fanno vedere anche che innanzitutto è possibile riutilizzarle se dei movimenti hanno iniziato a creare una nuova volontà collettiva e questo, onde evitare qualsiasi tipo di problema non è una cosa che si può dire dell'Italia. In Italia non si può assolutamente dire che c'è un nuovo tipo di volontà generale che è spostato sulla questione dell'europeismo, che è spostato sulla questione dell'accoglienza migranti, sulla ridefinizione di un nuovo tipo di concetto di lavoro e così via. Quello che dobbiamo fare innanzitutto è creare le basi per avere un certo tipo di mobilitazione che riesca a creare nel cuore e nella mente delle persone un altro tipo di Europa, un altro tipo di soluzione a quello che è in Italia il renzismo e in Europa in generale l'estremismo di centro. Ma nonostante questo tipo di origine che deve avere il cambiamento, quello che è ancora più importante è che non si può dare buon governo se non ci sono i movimenti e se non c'è non solo l'opposizione ma anche l'alternativa che questi movimenti continuamente esprimono. Io credo che la vitalità che ha il popolo greco tuttora durante il governo di Siriza, dove il consenso non è solo fideismo nei confronti del partito al governo, ma è proprio convergenza rispetto alla volontà popolare e alla negoziazione poi sfrenata che si sta facendo sul piano delle istituzioni europee, ma anche l'innovazione, tutto l'esperimento di cui ci stava parlando Rita sul piano locale, ci parla di un nuovo tipo di protagonismo, un nuovo tipo di protagonismo che interroga la forma Stato e allo stesso tempo la decostruisce, non consegna le chiavi in mano a nessuno del buon governo, ma dice che innanzitutto il buon governo si fa alla base del conflitto sociale, alla base dei diritti e della sfera dei diritti che riusciamo a riscrivere quotidianamente nelle lotte che facciamo e anche al tipo di connessione, il tipo di rimando continuo che possiamo avere dal locale verso il globale, ma anche da quello che ci dice il globale, quindi da quello che ci dice il livello trasnazionale che possiamo riportare nei nostri territori, come per esempio Blocco Pai ha fatto indubbiamente in Italia su ciò che significa agire a livello europeo, su ciò che significa, come ci diceva Tony, ripensare la stessa categoria dell'internazionalismo oltre alla solidarietà, individuare le controparti comuni e andare a partire da lì a vedere dove sono le contraddizioni che possiamo agitare, come per esempio di fronte al Reichstag a Berlino, di fronte alla Banca Centrale Europea a Francoforte, ma anche di fronte a tutte le loro articolazioni che indubbiamente troviamo nei nostri territori. Io penso che non si possa fare una conclusione esaustiva, sicuramente i prossimi mesi saranno molto importanti per Siriza e per il popolo greco, quello che auspichiamo è che Siriza possa portare avanti il suo programma e che finalmente le istituzioni europee possano uscire dalla vita di quei milioni di persone che in Grecia hanno dato una risposta chiara e a questo va veramente tutta la nostra solidarietà nella convinzione che quando andremo a Berlino il primo maggio lo faremo anche perché vogliamo stare accanto al popolo greco. Allo stesso modo auguriamo il successo di Podemos e anche la possibilità di poter diffondere questi nuovi tipi di meccanismi istituzionali che dal basso con le assemblee di quartiere e con le piattaforme per la difesa dagli sfratti abitativi stanno cercando di dare in questi mesi e soprattutto a partire dalla vittoria di Aura Madrid quindi ringraziamo Rita e la salutiamo e le auguriamo veramente un buon governo con questa dialettica di cui ha provato a descriverci le dinamiche e in generale la cosa che possiamo auspicare di qua in poi è che a partire non con una semplice sommatoria, cioè non Grecia, Spagna, Italia, Germania, tutti assieme ma facendo in modo che ci sia un terreno e un immaginario comune che il lessico che abbiamo usato in Italia nel 2009-2011 che è stato usato in Grecia e che è stato usato in Spagna possa essere riusato per spazzare via quello che abbiamo conosciuto finora dell'Europa e restando in Europa costruirne una nuova che fondamentalmente riporti un po' nel suo spirito quello che volevano i comunardi parigini di fine ottocento ossia libertà ed eguaglianza oltre ogni confine quindi ringraziamo per la partecipazione e finisce qua questo dibattito sull'Europa speriamo di poterne avere molti di più e molti altri scambi e prossimamente io ricordo velocissimamente i prossimi appuntamenti dei dibattiti del lunedì di Sherwood il prossimo lunedì qua avremo ospite Maurizio Landini e Marco Bascetta che avranno un'interlocuzione su cosa significa fare coalizione sociale come è una coalizione sociale bloccupai come è una coalizione sociale quella pratica di cui abbiamo bisogno per poter rispondere all'altezza della nuova Europa prossimo lunedì ancora l'ultimo dibattito di Sherwood parleremo invece di grandi opere, devastazione ambientale e corruzione nel nord-est in particolare in Veneto alla luce anche delle nuove elezioni regionali e comunali a Venezia che indubbiamente hanno dato una sorta di vittoria a quello che è il partito delle grandi opere e vi aspettiamo sempre qua nella foresta di Sherwood speriamo di poter aver dato a tutti strumenti utili per poter arrivare a trasformare quell'esistente in cui siamo sempre immersi